L'Azzurro alle ore circa 3 e mezza della notte è arrivato finalmente a Krasnoyarsk, si sono fatti i suoi 1075 km di autostop secchi, in tre macchine, una volata pazzesca sotto la pioggia, freddo cane, qui siamo a temperatura... No vabbè l'Azzurro è riuscito comunque a arrivare, qui abbiamo dei costume, no che carino, belle, vabbè comunque è finito in questo posto che doveva essere una cosa party diciamo così un po' frivolo, e siamo finiti invece una roba stra elegante, ora l'Azzurro ha comunque un biglietto perché gliel'hanno regalato, vediamo cosa fare No, una roba stra elegante, non so se... Ah, no, Mila! Vedo se terrorist tutte le sue, qui puoi? Gidera... 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 . Grazie. Grazie. Grazie a tutti.